Grazie. Bene, grazie a tutti di essere venuti a questo pomeriggio dove noi concludiamo un evento che è iniziato circa 4-5 mesi fa e che permette ad alcuni ricercatori di mettersi in mostra, diciamo così, proponendo a loro quella che abbiamo chiamato idea tecnologica a un pubblico più vasto dove sono rappresentati anche una serie di attori del mercato. Prima di spiegarvi l'agenda che vi racconterò dopo io lascerei la parola a coloro che introdurranno questo pomeriggio e abbiamo qui con noi il segretario generale della Fondazione Bruno Kessler Andrea Simoni che farà un breve saluto da ospite, dopodiché l'assessora alla ricerca Sara Ferrari che farà una breve introduzione. Quindi lascerei la parola subito a Andrea Simoni. Grazie e benvenuti a tutti, benvenuti a questo nostro incontro che come dice il titolo cerca di portare ad una condivisione con tutti voi di alcune idee, di alcune idee che nascono dalla ricerca di FBK e che speriamo possano essere passibili di valorizzazione sul mercato. Technology idea sharing ha proprio questo come senso, ha il senso di riuscire a far emergere dai nostri ricercatori, dalle attività di ricerca che fanno, delle idee che possono essere, dopo un periodo di maturazione, di incubazione e di accompagnamento, possono essere valorizzate sul mercato. Non è detto che le sette idee che vedremo oggi saranno tutte valorizzate sul mercato, non è detto che, diciamo, nascano delle start-up già domani, però è un movimento che all'interno di FBK abbiamo cercato di spingere per dare una strutturazione maggiore a quello che noi chiamiamo il percorso di innovazione. Noi siamo partiti con FBK nel 2008 e come ricordavo oggi in un incontro di un comitato interno abbiamo cercato di mettere a tema, oltre che la ricerca, come è sempre stata intesa, anche il tema della valorizzazione dei prodotti della ricerca. E questo pilastro della mission piano piano è diventato sempre più importante. E come ricordavo oggi, la mia opinione è che l'abbiamo sempre fatto in maniera molto artigianale questo. Abbiamo creato delle start-up, abbiamo lavorato con aziende, abbiamo messo in piedi i laboratori congiunti con aziende, però sempre in maniera poco strutturata. Quello che serve ad FBK per aiutare anche il proprio territorio, ma non solo, è quello di riuscire a strutturare questi percorsi e quindi creare degli strumenti adatti. Questo, diciamo, evento è un primo strumento, un primo strumento che ha visto la partenza, mi sembra il 14 gennaio, adesso correggimi Giuliano, quando abbiamo fatto un incontro con alcuni dei nostri ricercatori che hanno portato le loro esperienze. Gli altri ricercatori ascoltavano, chiaramente, no? E da Alessandro Cimatti al Pierluigi Belluti, persone che hanno visto cosa significa portare a compimento i risultati della ricerca. E poi abbiamo ascoltato anche le indicazioni, i suggerimenti di Luca, che è qui con noi, ed è il nostro presidente. Da lì è nata l'idea a sette dei nostri ricercatori, forse sei, perché ce n'è un doppione, o sono sette? Uno ne ha due? Ok. Quindi quella è stata pulita. Guarda Luigi che... Da lì sono partiti nel fare un percorso. Un percorso che è stato fatto, composto da momenti di formazione, e quindi coaching, e quindi appoggio da vari punti di vista, nella costruzione di un business plan, più che nell'accompagnamento da certi punti di vista, per capire quali sono gli aspetti critici e importanti per poter fare questo salto. fatto questo percorso, sono stati selezionati, e ce ne sono sette proposte, che vediamo qui, e che ringrazio, e abbiamo, diciamo, composto questo evento con una giuria, una giuria di esperti, che poi Giuliano presenterà, che hanno caratteristiche diverse uno dall'altro, perlomeno abbiamo cercato di comporre così questa giuria, ma che possa riuscire veramente non solo a selezionarle, faremo una graduatoria, ci saranno dei premi per i primi tre, però non è questo il senso, il senso è quello di dare dei consigli, di riuscire a far sì che queste idee effettivamente possano trovare un altro supporto per poter maturare. Quindi io ringrazio tutti gli intervenuti, sia i nostri colleghi di FBK, vedo tanti ospiti, ringrazio chiaramente chi ha partecipato a questa iniziativa, mettendosi in prima fila a svolgere questo percorso, e anche i nostri amici che parteciperanno alla giuria. Ringrazio l'assessora che ci ha onorato della presenza in questo momento, per noi è importante, perché questo è un altro dei segnali che FBK cerca di dare, e ripeto, al nostro territorio, ma non solo, nel riuscire a fare questo salto di qualità che passa alla seconda fase dell'economia circolare della conoscenza. La prima è quella che abbiamo sempre fatto, mi scuso, molto bene, no? Non voglio essere presuntoso. La seconda è quella che iniziamo a cercare di interpretare nel riuscire proprio a valorizzarla. Grazie. Il primo errore l'ho fatto accettando di venire ad aprire, invece che a chiudere, dopo che ho visto che c'è la premiazione e il buffet finale, e pazienza, io non mi posso fermare. E mi sarebbe piaciuto vedere poi, insomma, i risultati di questa giornata. L'altro errore è che ho chiesto una penna, sono venuta con la carta e sono nel posto sbagliato, a pensare di venire qui ancora con la carta e la penna, visto che i miei due compagni di banco hanno solo, ovviamente, la tecnologia più moderna. Inizio ringraziando, ringraziando chi ha voluto organizzare questo momento e questa iniziativa. Chi ha voluto partecipare, cioè chi ha saputo cogliere l'occasione, non sempre è così scontato che si sappia cogliere le occasioni che ci sono. Ringraziare la giuria che si è voluta prestare, quindi vuol dire che ha creduto in questa iniziativa, ha prestato il suo tempo e la sua competenza e la presterà oggi a questa giornata. E mi complimento in anticipo con chi vincerà, ma, ahimè, non lo posso sapere, quindi non posso che fare un grosso in bocca al lupo. È evidente che per la provincia autonoma di Trento l'evento di oggi si inserisce con coerenza dentro una nuova idea del ruolo che deve avere, del ruolo dal punto di vista pubblico evidentemente, che deve avere una fondazione di ricerca che può oggi accompagnare le sue eccellenze verso l'economia reale. Oggi siamo nella fase storica in cui l'investimento pubblico sulla ricerca chiede anche questo. Chiede cioè di saper tradurre in successo, in applicazioni, in trasferimento tecnologico quello che è il lavoro che voi dentro a questa fondazione fate. È evidente che voi siete dei ricercatori e quindi non è chiesto ai ricercatori che abbiano in maniera innata anche le competenze per fare business, per fare marketing, per fare altro. E quindi l'operazione che si chiede di fare, ma sulla quale si costruiscono i presupposti perché si possa fare, è accompagnare le competenze di chi fa ricerca con occasioni e persone che possiedono la competenza necessaria a questo trasferimento, a questo passaggio. La provincia, come voi sapete, ci crede. Ha costruito insieme a FBK, Fondazione Edmund Mac, Università di Trento, vedo qui anche il prorettore, una e Trentino sviluppo evidentemente, un luogo che serve esattamente a questo, cioè che ha questo obiettivo, quello di aiutare la ricerca a intercettare i bisogni e le richieste del mondo dell'impresa. Bene se questo obiettivo, questo percorso, lo si cerca di fare con strumenti diversi, con occasioni diverse, con modalità nuove che possono essere sperimentate. Considero quella di oggi una di queste modalità con cui FBK, per prima dall'esempio, di voler costruire a partire dai propri ricercatori, offrendo loro queste preziosi occasioni che sono i premi messi in palio oggi e il percorso di accompagnamento che può servire perché possano diventare di successo le vostre idee e le vostre ricerche. Non dico altro se non che questa è la strada che noi speriamo giusta, sulla quale stiamo facendo come sistema Trentino una scommessa, e quindi se uno degli enti più quotati, più avanzati, di cui possiamo fregiarci in questo territorio, fa questo sforzo, beh, non possiamo che essere contenti e applaudirlo perché è questa la linea che abbiamo scelto per questo periodo storico. Non so se ce ne sarà un altro poi che verrà diverso, ma questa è la scommessa che stiamo facendo oggi, questo è ciò di cui oggi abbiamo bisogno. Quindi io faccio di nuovo un grosso in bocca al lupo a chi vincerà, ma anche agli altri che forse magari non oggi ma in altre circostanze potranno vedere comunque successo della propria iniziativa e come dire, come provincia di Trento noi ci siamo su questo. E quindi in bocca al lupo di nuovo. Bene, direi che siamo in largo anticipo sulla tabella di marcia, e quindi ho tempo, per la prima volta nella mia vita, sono in largo anticipo sulla tabella di marcia, quindi ho tempo di spiegare con un po' di calma come funziona il meccanismo con il quale abbiamo costruito questo pomeriggio. Allora, avete sentito che ci sono sette idee che sono state selezionate e che oggi verranno valutate da una giuria, direi, molto qualificata. La giuria sarà, adesso elenco coloro che prenderanno parte alla giuria e che, diciamo, dopo la fase iniziale nella quale noi assisteremo a un pitch fatto da ciascuno dei sette team, a valle, ovviamente, dell'ascolto dei pitch, la giuria si riunirà e si riunirà per un periodo di tempo che dovrebbe essere 45 minuti, insomma, mezz'ora 45 minuti, e darà una valutazione delle idee e, dopodiché, diciamo, verranno assegnati i premi ai primi tre classificati. Dicevo, la giuria autorevole ne faranno parte Andrea Simoni, che è il segretario generale di FBK, Simona Aidenperger, che oltre ad essere un membro del CDA di FBK, è anche direttore degli investimenti a Merfin Capital, che è una società di private equity, più o meno, dice Simona, va bene. Poi abbiamo Massimiliano Magrini, che è managing partner a United Ventures, che è un fondo di venture capital. Poi abbiamo Pietro De Nardis, che è un imprenditore e un angel investor, così, diciamo, lo qualifichiamo. Poi abbiamo Roberto Prioreschi, director a Bain & Company, che è una primaria società di consulenza. Poi abbiamo Diva Tomei, che è il CEO di Solenica, e quindi in prima persona potrà valutare rispetto alla sua azienda come vanno le altre. Poi abbiamo altri due membri aggregati, su cui, diciamo, non eravamo certi della loro partecipazione. Abbiamo Luca De Biase, che è giornalista, direi più che autorevole, del Sole 24 Ore, nonché un esperto di questo tema, perché ha partecipato alla commissione governativa, che ha sostanzialmente riscritto gran parte della normativa sulle start-up e gli spin-off, ed è anche colui che ha lanciato questo percorso, perché il 14 gennaio, insieme al nostro presidente Profumo, ha fatto un po', diciamo, da sparring partner per coloro che stavano pensando di sottoporre la propria idea. E in ultimo Roberto Della Marina, che oltre ad essere membro del CDA di FBK, nonché presidente del comitato di valutazione imprenditoriale, sempre di FBK, è anche partner di Aladdin Ventures, è presidente del BIC, degli incubatori del Friuli Venezia Giulia. Quindi direi, come si dice in questi casi, un parterre du roi. Quindi io, con un po' di anticipo sulla tabella di marcia, che non guasta, andrei a introdurre i meccanismi di funzionamento dei pitch, perché abbiamo pensato, cioè in queste circostanze, come sempre succede, bisogna essere un po', come dire, rigidi, soprattutto nel tenere i tempi, e nel fare in modo che parte anche del meccanismo, diciamo così, di preparazione al mercato, sia costituito dal fatto di poter, di sapere esporre, anche in tempi molto rapidi, quella che è la propria, in questo caso, idea tecnologica imprenditoriale. Diciamo che il termine idea tecnologica è stato coniato anche per tener conto del fatto che non si pretende da queste idee una maturità tale da poter essere pronti a partire domani mattina. Tuttavia, non si pretende neanche, cioè, non ci si accontenta neanche che siano cose vaghe, buttateli un po' per caso. Questi cinque mesi, prima ho detto quattro, ma in realtà sono quasi cinque mesi di accompagnamento a questa giornata, sono serviti, tra le varie cose, anche a fornire un minimo di attrezzi del mestiere, di formazione, per quello che può essere fatto in un tempo così breve, e comunque sempre, diciamo, part time, perché ovviamente le persone che hanno partecipato a questo percorso hanno continuato nel frattempo a fare anche i ricercatori. Quindi dovrebbero arrivare oggi abbastanza carrozzati per tenere una presentazione. Come funziona? Loro avranno cinque minuti, io li introdurrò, introdurrò i team mano a mano, dicendo in maniera molto semplice qual è l'ambito, in che ambito tecnologico e di mercato si colloca molto vagamente la loro idea, tanto poi saranno loro a presentarla nel dettaglio. Presenterò il team, loro avranno cinque minuti per fare la loro presentazione, cercherò di essere sufficientemente rigido perché ho messo una sveglia che ha un suono molto antipatico, quindi lo riconoscerete subito. Vi avviserò quando mancherà un minuto di modo che possiate organizzarvi eventualmente per fare un rush finale. Dopodiché ci sarà spazio per... Idealmente noi abbiamo pensato a tre domande dal pubblico giusto per evitare di fargli evitare troppo il numero di domande e di sforare con i tempi. Se poi una volta sono quattro e abbiamo fatto veloce può anche andare. È chiaro che siccome verranno valutati comparativamente dovremmo dare delle condizioni più o meno a tutti che siano equivalenti. Quindi insomma su questi tempi io cercherò di essere abbastanza severo. Quindi non resta direi che partire con la prima idea che il cui proponente ha deciso di chiamare Tu Aspire. Il proponente è Mariano Ceccato che invito a salire sul palco per la presentazione. Farei anche un applauso di incoraggiamento. Grazie a tutti. Grazie. Come molti di voi sanno il modello tradizionale di pagare per scaricare un'app ormai è stato praticamente utilizzato da il disegno alternativo che prevede le app sono gratuite Le app ora sono gratuite molto spesso il flusso di denaro agli sviluppatori arriva sostanzialmente attraverso la visualizzazione di pubblicità pubblicità che sono raccolte da terze parti e messi a disposizione degli sviluppatori come una libreria che includono e sostanzialmente viene visualizzata. Molto spesso però come già purtroppo succede per il software tradizionale per computer e desktop anche le app per smartphone finiscono nelle mani di hacker che sono sostanzialmente intenzionati a modificarle e ridistribuirle in canali paralleli. Se però questi hacker modificandole tolgono la pubblicità questo rappresenta un mancato guadagno per gli sviluppatori che contavano sulla pubblicità come unica fonte di revenue. Quello che proponiamo noi è questo sostanzialmente sigillare la pubblicità all'interno delle app in modo che non sia possibile o sia molto difficile rimuoverla. Non solo ma i tentativi di sostanzialmente modificare queste app consisterebbero in un malfunzionamento dell'applicazione. Cioè c'è un meccanismo di protezione interno che rileva ogni tentativo di effrazione e fa in modo che l'applicazione modificata non funzioni più correttamente. Dalle nostre analisi emerge che il mercato della pubblicità su smartphone è ampio e in rapida e costante ascesa. Quest'anno si stima che il mercato globale della pubblicità su smartphone sia attorno ai 100 milioni di dollari 100 miliardi di dollari scusate valore. che grossomodo raddoppia nel 2019. Un'analisi più dettagliata della segmentazione rileva che spesso molto spesso gli sviluppatori hanno un'esperienza molto limitata per lo meno nella maggior parte dei casi. Gli sviluppatori professionisti sono pochi e sostanzialmente questi sviluppatori utilizzano la pubblicità come fonte principale di monetizzazione delle loro app. Viste queste premesse abbiamo elaborato il seguente business model invece di proporre un costo fisso per utilizzare le nostre tecnologie noi abbiamo proposto questo modello di sostanzialmente detrarre una piccola fee una percentuale che varia fra il 3 e 5% da quello che sarebbe la monetizzazione derivante dalla visualizzazione dei banner pubblicitari. In questo modo solo se un'applicazione ha successo effettivamente dovrà pagare questa fee. quindi escludiamo la possibilità di avere uno scoglio laddove gli sviluppatori con poca esperienza e agli inizi non hanno una disponibilità finanziaria elevata. L'analisi dei competitors fa emergere che la maggior parte delle soluzioni attualmente disponibili sono tipicamente passive cioè cercano di rendere più difficile la possibilità di portare delle modifiche di portare degli attacchi. Le uniche soluzioni che di fatto tendono cercano di avere un approccio reattivo per bloccare le applicazioni modificate sono molto poche e tipicamente molto costose perché propongono ancora il modello tradizionale di un costo fisso iniziale. Le uniche aziende che propongono questo tipo di soluzioni di fatto cercano di rivendere nel mercato mobile soluzioni pensate e ritagliate per il mercato desktop quindi non del tutto allineate con l'esigenza del mercato mobile. L'esperienza che portiamo in questa iniziativa imprenditoriale è un'esperienza maturata all'interno di un progetto di ricerca finanziato dalla comunità europea iniziato all'incirca tre anni fa che ha coinvolto sette partner di cui tre sono i leader mondiali della sicurezza digitale. i principali milestone di progetto già raggiunte sono state raggiunte all'interno di questo progetto di ricerca sono state l'ideazione di approcci innovativi lo sviluppo di prototipi e la loro validazione industriale. Nel prossimo anno noi intendiamo validare il nostro approccio con i primi gli early adopter di questo tool e rilasciare entro un anno un tool che gli sviluppatori potranno utilizzare all'interno del loro sviluppo. Rapidamente il team si compone io sono stato il principal investigator di questo progetto di ricerca e Andrea mi ha affiancato nello sviluppo di queste tecniche. Come prossimi passi sostanzialmente intendiamo avvicinare più da quelli che sono potranno essere gli early adopter di questo tool per avviare un colloquio costruttivo con loro e sostanzialmente avviare anche una campagna di fundraising per finanziare queste idee imprenditoriale. L'ultimo passo è quello di allargare il team di sviluppo coinvolgendo altre persone che si occuperanno più specificatamente dello sviluppo del mercato. se ci sono domande le tre famose domande non è obbligatorio ovviamente ma se qualcuno ha qualcosa da chiedere a Mariano Max Sì certo la tecnologia sostanzialmente che intendiamo adottare è un pezzettino di software che viene integrato nell'ambiente di sviluppo che gli sviluppatori normalmente usano e quindi per loro sarà trasparente sostanzialmente cosa succede? Alla fine dello sviluppo prima di produrre l'applicazione la nostra tecnologia applica un rewriting cioè modifica l'applicazione integrando delle protezioni che monitorano l'esecuzione dell'applicazione finale e sostanzialmente verificano delle invarianti cioè delle condizioni che delle proprietà della pubblicità che se sono verificate allora l'esecuzione continua normalmente se invece queste proprietà non sono verificate allora si innesta un meccanismo che di lì a poco causerà il blocco dell'applicazione è molto importante diciamo separare la parte di verifica dalla parte di contromisure per non rendere evidente il punto che andiamo a corrompere dell'applicazione poi di fatto è un po' complicato mi ci vorrebbe forse una presentazione un po' più ampia allora di fatto l'approccio generico come primo campo di utilizzo ne abbiamo individuato quello della pubblicità che è un bisogno sentito ovviamente il progetto di ricerca ha un respiro molto ampio e ha elaborato tecnologie utilizzabili in vari contesti questa è l'idea che abbiamo avuto per quanto riguarda la proprietà intellettuale ci sono degli accordi di progetto un contratto sostanzialmente e la proprietà intellettuale appartiene ai partner che hanno sviluppato quell'idea innovativa diverse idee sostanzialmente in questo progetto afferiscono a diversi partner alcune sono condivise altre sono esclusive come FBK abbiamo la proprietà intellettuale esclusiva di alcune idee che intendiamo adottare tra cui questa tra cui sì questa il prossimo passo reale è appunto quello di fare un po' di fundraising per poter finanziare lo sviluppo allora per finanziare il primo anno avremo bisogno all'incirca attorno ai 750 mila euro per lo sviluppo e per mettere in piedi questa idea imprenditoriale contando anche la parte di marketing di promozione del prodotto nei vari canali che abbiamo identificato allora il nostro programma viene distribuito agli sviluppatori il nostro programma non viene distribuito assieme alla app quindi di fatto un hacker quando scarica la app ha solamente la app protetta il nostro programma non è inserito all'interno dell'app e quindi diciamo l'attacco è rivolto alla app protetta sigillata piuttosto che al nostro tool di protezione non so se ho risposto alla domanda quindi lo sviluppatore diciamo che nel nostro si esatto questa è un po' un'assunzione che noi facciamo cioè lo sviluppatore è un attore interessato a proteggere l'app più che attaccarla in effetti potrebbe succedere potrebbero esserci scenari alternativi da investigare bene se non ci sono ulteriori domande ringrazio ancora Mariano e passerei passerei alla seconda idea non prima di avervi ricordato un paio di cose che mi sono dimenticato di dirvi prima ovviamente la prima è che quando intorno alle 16.30 forse un po' prima la giuria si ritirerà per per emettere il verdetto cioè per preparare il verdetto in parallelo ci sarà una sessione di bit di e le imprese e l'altra cosa che mi sono colpevolmente dimenticato di fare è ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la giornata di oggi in particolare la preparazione di tutto quello che adesso sembrerebbe magicamente funzionare allora quindi possiamo proseguire con la seconda idea prima anche a Mariano non avevo detto nulla circa l'ambito ecco circa l'ambito mi sono dimenticato me ne scuso la seconda idea si chiama 3C Lifestyle la presentano Rosa Maimone e Marco Dianti e si tratta di una piattaforma tecnologica in grado di monitorare educare e motivare gli utenti ad adottare uno stile di vita sano è una piattaforma che è derivata diciamo così da una più famosa piattaforma che abbiamo realizzato qua presso la 3C cartella che sta per cartella clinica del cittadino quindi a voi la parola 5 minuti anche per voi buongiorno siamo Rosa e Marco e oggi vi presentiamo 3C Lifestyle un nuovo modo per promuovere la salute negli ambienti di lavoro immagino che guardando questa situazione vi siete trovati in questa situazione oppure state pensando ai vostri colleghi o ai vostri dipendenti comportamenti del genere se diventano abitudine possono portare a un aumento del peso e all'obesità e sovrappeso e obesità sono uno dei fattori principali di rischio di malattie croniche come il diabete malattie cardiovascolari e addirittura tumori ma l'obesità è anche vista come uno dei rischi principali di infortuni sul lavoro e di invalidità sul lavoro ciò significa che la persona che avete visto prima nella foto tra qualche anno non sarà più in salute diminuirà il suo livello di produttività aumenteranno le sue assenze per malattie e ciò significa che ci saranno più costi per le aziende come si può risolvere questo problema? basta poco basta motivare i dipendenti ad assumere uno stile di vita più sano Trek Lifestyle è una soluzione tecnologica che vuole migliorare la vita dei dipendenti e della sua famiglia la soluzione consiste in un'applicazione mobile con il quale il dipendente può aver traccia delle sue abitudini relative all'attività fisica all'alimentazione ma anche per rilevare i fattori di rischio relativi allo stress e quindi aumentare la sua consapevolezza sullo stato di salute tutti questi dati vengono analizzati e inviati al medico competente del lavoro che per legge è interno all'azienda attraverso un portale web potrà vedere un'analisi dello stato di salute del dipendente e decidere se avere o no più viste specialistiche e quindi più frequenti a supporto del dipendente c'è un counselor che è un esperto della motivazione al cambiamento e al mantenimento di uno stile di vita sano ma il nostro punto di forza è un'agenda di intelligenza artificiale che noi chiamiamo virtual coach che è in grado di analizzare i dati integrarli con le analisi del contesto in cui si trova l'utente e decidere se e quando inviare messaggi suggerimenti o informazioni per correggere e anticipare eventuali comportamenti sbagliati alle aziende invece offriamo report periodici di dati aggregati e anonimi con il quale può monitorare l'impatto che la nostra soluzione ha avuto sul benessere organizzativo il mercato della mobile health è cresciuto molto negli ultimi anni basti pensare che è arrivato a 10.2 miliardi che dovrebbe arrivare nel 2018 partendo da un miliardo e mentre in Italia le aziende italiane il 38.8% investe in welfare salute quindi buona parte delle aziende e in questo caso maggiormente al nord e addirittura se andiamo a vedere le medie e grandi aziende più della metà investe in welfare salute questo perché un report di McKinsey dice che ogni 150 euro investiti in prevenzione e salute porta a un guadagno di 300 euro quindi il doppio in più la riduzione dei costi della salute e la riduzione dell'assenteismo nel 27% quindi è un buon investimento noi il nostro business model si tratta di andare a vendere questo pacchetto salute alle aziende che è formato da un costo base anno più un costo dipendente dalla dimensione dell'azienda quindi al numero di dipendenti e le contatteremo per via diretta o tramite il medico del lavoro che è dentro per legge in ogni azienda quindi sa quali ne hanno bisogno noi abbiamo fatto faremo un trial in FBK che userà Progetto Salute per esempio i nostri concorrenti quello che ci distingue maggiormente i nostri concorrenti sono il fatto che abbiamo appunto gli esperti il counselor e il medico che affiancano l'utente e guidiamo l'utente alla dieta mediterranea che è una delle diete più risapute più sane e facendo questo abbiamo sviluppato un prototipo che abbiamo già testato con uno studio pilota con delle pediatre con dei bambini sovrappeso che ha dato riscontri molto positivi nel senso che hanno cambiato stile di vita sia loro che le famiglie con questo noi andremo a proporlo allora in un trial all'interno in FBK su dei veri lavoratori per poi avere dei riscontri e avere una validazione e poi partire con lo sviluppo l'anno prossimo con un finanziamento di 250.000 euro per fare sia l'implementazione che il marketing che la messa in atto e lanciare a giugno 2017 per usando la reputazione che ci costiamo con le aziende per poi andare a venderci in altre aziende e ingrandire il mercato nel 2018 quindi la crescita sarà inizialmente un po' lenta per poi esplodere nel 2019 noi siamo Rosa e Marco siamo due tecnologi qua nel gruppo Yield di FBK e cerchiamo un business developer e qualcuno che ci si occupi della vendita grazie domande ve ne faccio una io se non ce ne sono se avete diciamo approfondito come penso che abbiate quantomeno iniziato a farlo se non già fatto gli aspetti che riguardano diciamo il rapporto tra le aziende dipendenti in tema di controllo della salute e quant'altro sì beh la nuova legge di stabilità in un certo senso spinge le aziende a fare questi investimenti qua hanno degli sgravi fiscali quindi sono proprio sono motivati a fare una una promozione della salute all'interno della loro azienda e per legge hanno il medico del lavoro all'interno quindi sappiamo che avremo quel canale lì e per per quanto riguarda l'aspetto legislativo nel senso ah i dati forse non l'ho detto i dati sono è la privacy esatto l'azienda non ha accesso ai dati l'azienda ha accesso a un report che non so se si vedeva un report di statistiche di dati aggregati anonimi ovviamente il datore di lavoro non può andare a vedere lo stile di vita del singolo dipendente il medico può perché è il me eh sì perché è il suo medico una domanda quanto quant'è la differenza tra input e i dati che deve fare la persona e quanto pensate di invece tracciare in maniera automatica tramite device allora per quanto riguarda l'alimentazione è la parte più complicata nel senso che non esiste stiamo cercando altri metodi ma più che inserire abbiamo cercato di minimizzare al minimo la quantità di dati da inserire quindi invece che inserire esattamente i cibi noi ci rivolgiamo a categoria appunto della piramide quindi si tratta di dire cereali che cereali è una dose stimata perché abbiamo visto che già anche una minima quantità di una minima precisione può dare già grande vantaggio i nostri concorrenti per esempio la domanda era hai mangiato sano sì no quindi era molto semplice però non dà non dà idea di come sta mangiando il dipendente o si affida totalmente alla sua sincerità invece l'applicazione corregge proprio gli errori quindi se uno mangia troppa carne o troppo poco pesce gli viene detto proprio il consiglio un'ultima domanda io quello che vorrei capire qual è il mercato cioè voi avete detto qualcuno che si occupa della vendita nel primo anno dove volete andare a venderla questa applicazione questo prodotto in che aziende sì il primo anno pensiamo di stare in un contesto locale facendoci consigliare appunto le aziende da Progetto Salute che è un'azienda sanitaria locale che ha diversi medici del lavoro in diverse aziende quindi potrebbe dirci appunto dove c'è più bisogno di questo pacchetto anche perché il medico viene pagato quindi viene pagato a prestazione quindi è nel suo interesse trovare più clienti diciamo e per poi contavamo sulla reputazione nel senso che inizialmente se andiamo in un'azienda e ci proponiamo e ci chiedono in quale altre aziende siete stati non abbiamo niente quindi partiamo così con Progetto Salute poi avendo la validazione di queste poche aziende locali possiamo andare a venderci meglio con altre grazie ci spieghi velocissimamente qual è il business model che voi avete il business model è quello il pacchetto che andiamo a vendere sarebbe proprio andare a vendere un abbonamento annuale che può dipendere dalla dimensione dell'azienda visto che servirà un'infrastruttura un po' più più corposa se sono più di 250 dipendenti e dare l'applicazione in modo gratuito i sensori per esempio contapassi o bilanci eccetera deleghiamo possiamo fornirli noi ma non contiamo di guadagnarci dei soldi possiamo venderli al prezzo di acquisto o dire al dipendente di usare quelli che usa lui se qualcuno già usa dei braccialetti tipo Fitbit Jobon così noi possiamo prenderci i dati direttamente da quelli senza andare a propinargli altri device comunque il dipendente non paga l'applicazione quindi la sua motivation qual è? la sua motivation è ridurre l'enorme costo che hanno le malattie croniche e che tra l'altro sono l'80% delle cioè tu sta facendo cioè devi essere molto fiducioso che la tua azienda ti vuole bene tu devi volere molto bene l'azienda io dipendente? sì beh no dipende anche a me perché io per esempio beh a parte che ha un servizio detassato quindi avrai un servizio che pago meno perché non ci pago sopra le tasse ma poi ho un supporto di esperti che costerebbero molto di più del benefit che mi darebbe il mio datore a fine mese riusciamo a pagarli meno aggregandoli grazie se non ci sono altre domande un altro applauso a Rosè e Marco adesso è il turno della terza idea che ci presenterà Luigi Crema e che ci presenta diciamo un complesso articolato prototipo nel campo delle energie rinnovabili e sottolineo il fatto che Luigi ci presenta un'idea che io tra virgolette chiamo hardware nel senso che è l'unica idea tra le sette non software insomma quindi un particolare incoraggiamento a Luigi grazie buon pomeriggio oggi sarò anche in rappresentanza di un team più esteso di collaboratori che è stato coinvolto con lo sviluppo parliamo di solare a concentrazione quindi solare a concentrazione per cogenerazione e soprattutto per la produzione di calore all'interno di processi industriali la maggior parte di noi spero diciamo auspica di vivere a breve in un mondo dotato di aria pulita in un mondo a emissioni possibilmente zero e soprattutto alimentato diciamo in maggior parte in larga parte da fonti rinnovabili nel contesto specifico di questa tecnologia ci sono ancora alcuni gap verso poter cogliere completamente quello che è il mercato i gap sono dovuti al fatto che le principali aziende collegate a un unico mercato che è quello del grande solare concentrazione per le alte temperature che al momento vive di un monomercato in ambienti molto ostili dove il degrado della tecnologia non è ancora risolto e i costi della produzione sono circa il doppio di quello che il mercato si aspetta quello che noi proponiamo è scalare la tecnologia su applicazioni diciamo più economiche a temperature relativamente più basse rispetto a quelle dei grandi impianti una tecnologia che abbiamo già disegnato oltre che aver sviluppato in prototipo disegnato in maniera modulare standardizzata possibilmente per essere applicata in più mercati di riferimento uno di questi l'ho già citato è il calore per processi industriali ma stiamo pensando anche al piccolo residenziale cogenerativo stiamo pensando anche al settore dei piccoli campi solari sempre per cogenerazione a supporto di comunità e smart cities in questo contesto all'interno di un progetto di Gespo già concluso abbiamo sviluppato tutti i componenti di base della tecnologia dall'assorbitore della radiazione al ricevitore solare che permette di trasferire la radiazione in calore a 300 350 gradi questo ricevitore poi collegato a delle ottiche innovative flessibili il tutto diciamo impacchettato all'interno di un sistema collegato anche a un motore di sterling cogenerativo per produzione di elettricità oltre che di calore il nostro modello di business su questa tecnologia è confezionarla ecco questo è il primo obiettivo realizzando un intero sistema l'abbiamo già realizzato in forma prototipale lì lo vedete nel tetto di un'azienda farmaceutica a Malta dove ha lavorato per circa un anno e mezzo il primo prototipo prima di essere ritrasferito in FBK questa tecnologia una volta assemblata servirà a un system integrator è direzionata a un end user l'end user per noi vuol dire non solo l'azienda industriale con il calore di processo ma anche un trader di sistema un energy service company che lo possa trasferire secondo un certo schema modello a ulteriori end user e al mercato che effettivamente poi sarà costituito dalle aziende che dovranno produrre energia di processo il mercato è un mercato esteso variegato si parla di calore di processo raggiungibile da questa tecnologia in tutti i principali settori il tessile l'alimentare l'industria della carta solo per citarne alcuni entro il 2030 quindi anche l'agenzia internazionale dell'energia fornisce questi numeri il 10% del calore di processo industriale sarà fornito da solare questo rappresenta il 33% dello share di mercato si parla quindi di circa 20.000 installazioni in ambiente industriale realizzate su un valore di 5 miliardi di euro che può triplicarsi considerando anche gli altri due mercati che ho citato prima quindi quello del residenziale e quello dei piccoli campi solari i competitor sono alcune aziende che realizzano sostanzialmente tecnologie prototipali stanno aprendo il mercato ma non hanno un prodotto già realizzato hanno un prodotto che non può raggiungere le performance del nostro i principali diciamo sviluppatori non sono in ogni caso aziende ma centri di ricerca qui sono citati alcuni con tutti questi stiamo collaborando il team è un team di competenze multidisciplinari eterogene quello che ha sviluppato ecco la tecnologia alcuni di questi collaboratori potrebbero poi configurare la start up che stiamo che stiamo proponendo ecco di realizzare in questa in questa presentazione c'è un forte contesto di visibilità internazionale un forte interesse delle piattaforme industriali e un contesto di policy a supporto della tecnologia specifica cerchiamo un investitore ora un partner tecnologico entro i 12 mesi da qui allo sviluppo della tecnologia precommerciale e un end user da integrare entro 18 mesi abbiamo un piano di mercato dove mantenere l'IP della tecnologia su Trento un valore della società iniziale di circa 10 milioni di euro un 20% di diluizione massima che vorremmo dare alle azioni della start up su un investitore che permetta di arrivare al precommerciale entro 12 mesi un partner tecnologico da collegare per rafforzare la compagine industriale e quindi un end user da accorpare a 18 mesi dall'inizio delle attività vi ringrazio per l'attenzione quant'è la stima del bear cost per kilowatt cioè non sovvenzionato di un sistema di questo tipo abbiamo un'ipotesi di 100 euro per metro quadro della tecnologia da sviluppare questo con lo sviluppo di un mercato di vendita di circa 50 mila collettori collettori sono due per due metri di dimensioni quindi un'azienda è capace di assorbirne diverse centinaia per un unico impianto ma quindi il costo a me interessava capire quant'è la normalizzazione del costo di produzione per superficie quindi quanto genero a parità di superficie e quindi quanto mi costa eventualmente per fare una il levelized cost of energy l'LCOE è previsto essere tra i 20 25 euro per megawattora prodotto quindi circa il 25 30 per cento in meno degli attuali costi di calore di processo industriale sempre per le stesse quantità ipotizzate sulla produzione grazie immagino che avrete dei grossi problemi di supply chain dovrete mettere insieme tutti quanti i vari pezzi assemblarli eccetera come pensate di attrezzarvi visto che chiedete essenzialmente 2 milioni bisogna capire per arrivare al prototipo il prototipo è già realizzato quello che a noi serve adesso realizzare è la tecnologia precommerciale installata magari in 2 3 dimostratori di scala reale e configurazioni diverse abbiamo partner che forniscono sostanzialmente i componenti base della tecnologia dal tubo solare un'azienda tedesca alle ottiche un'azienda trentina dovremo poi realizzare l'integrazione di sistema per i primi prototipi la immaginiamo nella start up da realizzare sempre qui a Trento siamo comuni a presto a presto a presto